Quanto è il quattro e il nove? Nove? Nove da un giro a sinistra, se volete qua acqua un po' di sottino. Acqua un po' di sottino? No, grazie. E' un giro, donna Alessandra. Come è successo, mi pare? Nove? Quindi, chi fa il nove a sinistra, il quattro a dritto? Grazie. Qui qua, acqua e biscotti. Grazie. Di là, di là, giusti? Voi fate il quattro, quindi dritto. Se volete vi chiedo da un po' di sottino. Vai, dove? Vai, dove? Di là, di là. Fai nove chilometri a sinistra, il quattro a dritto. Nove di qua. Nove di qua. Seguite le frecce viola, i nove. Non fa per biscotti acqua o per caldo. Aspetta che picchiai. Aspetta che picchiai. Ho capito bene chi fa quattro a via dritti, no? Ho capito bene chi fa quattro a via dritti. Sì. Sì, sì, sì. Eh no, aspettiamo qua. Perché vanno quattro, vanno di qua o di là? Chi fa i quattro dritti. Di luce. Alice? No, non c'è. No, non c'è. Allora qui ha le carrozzine. Che bene che sta facendo. Che bene che sta facendo. È meglio che ci mettiamo qua. Nove di qua. Ah, no. Nove di qua. Qua, qua, qua. Qua, qua. Nove di qua. Nove di qua. Qua, qua. Qua, qua. Qua, qua. Qua. Qua, qua. Qua, qua. ho trovato un passo lento per me ho trovato un passo lento per me ho trovato un passo lento per me ho trovato un passo ho trovato un passo lento per me ho trovato un passo lento per me